Mi chiamo Stefano Robotti, sono il capo progetto della Lundiga Bilbao, disegnato dal nostro amico Philip Stank. L'idea era quella di lavorare come uno scenografo. Mancava, a mio avviso e avviso di Stark, una figura che era la figura di comporre la scenografia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'idea è stata di Philip Stank, ha voluto una cosa diversa, di fantasia, di artisticità. Grazie a tutti. Per Stark l'architettura moderna non è una forma moderna, ma è un concetto moderno di vivere allo spazio. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore commerciale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore culturale, non un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore culturale, non un contenitore culturale, non un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale, non un contenitore culturale, non un contenitore culturale, non un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale. La Lundiga Bilbao è un contenitore culturale.